Torna la vittoria l'Arezzo calcio femminile dopo il K.O. esterno di domenica scorsa a Lucca perire sotto i colpi delle ragazze a Maranto a Lorentini di Pescaiola e il Pisa. Nel turno di andata una rete di bimbi aveva condannato l'Arezzo alla prima sconfitta in campionato mentre questa volta grazie a un calcio di rigore timbrato da Laura Teci la squadra retina riesce a consolidare il quinto posto in campionato lasciando a meno 4 proprio il Pisa. Mister Acquisti perde Antonelli nel riscaldamento e opta perché ci importa al debutto dal primo minuto mentre confermato l'assetto della squadra linea 3 dietro composta da Zeghini, Teci e Eterini con Baracchi metronomo di centrocampo e la coppia Luccarini-Torrioli davanti. Il Pisa di Mister Sonatori scende in campo con un 3-4-1-2 bimbi esterna di centrocampo e Biancalana Paganelli a sbagliare davanti. La partita si gioca davanti a una buona cornice di pubblico ma con un campo pesante per via delle abbondanti piogge che si sono abbattute in settimana ad Arezzo. L'avvio di gara è subito di Mar Camaranto, prima ci prova Zeghini da fuori con un sinistro che termina alto di poco. Poi è la volta di Serluca al settimo, il suo piattone davanti alla porta difesa da Romiti si infrange sulla traversa. La prima e l'unica occasione del nero-blu nel primo tempo arriva con Spapagani e il suo destro da fuori aria si stampa sulla traversa a Chierici battuta. Il campo pesante e le condizioni meteorologiche non aiutano le due squadre che faticano a far decollare il gioco per via dei molti errori tecnici commessi. L'ultima azione da segnalare del primo tempo arriva al minuto 29 quando Paganini, nuovamente suo assist di Lucarini, riceve palla al limite nell'aria e scocca un destro al volo che sibila il palo alla destra di Romiti. Nella ripresa l'Arezzo torna in campo più spavaldo e aggressivo con pressing sui portatori di palla ospiti, cosicché per una buona parte del secondo tempo il Pisa è costretto a rintanarsi nella propria metà campo. L'occasione per sbloccare il match arriva al dodicesimo con Mattiacci ma il suo sinistro a botta sicura viene letteralmente murato da un gran recupero di Orlandi. Due minuti dopo la svolta, ingenuità dentro l'area di rigore di Azei che colpisce la sfera con il braccio, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore per l'Arezzo. Dal dischetto si porta Teci che non sbaglia nonostante Romiti avesse intuito la traiettoria 1-0 per la squadra di casa e sesta rete stagionale per il difensore Amaranto. Nel finale gli animi si scaldano e l'arbitro è costretto a espellere Licaretti per proteste. Una vittoria che allunga la striscia dei risultati utili consecutivi in casa a 11 gare e porta l'Arezzo a 41 punti in classifica, sempre meno 4 dal Casentino, stabile al quarto posto ma con lo scontro diretto fissato a domenica prossima. Un derby che potrebbe far risalire l'Arezzo e interrompere il mal di trasferta che in questa stagione ha condizionato la squadra Amaranto. Siamo qui con Laura Teci, match winner della partita di oggi contro il Pisa. Laura, una partita veramente difficile, condizionata anche da un campo, condizioni di gioco dure. Com'è stata per voi viverla in campo? Beh, è stata dura perché abbiamo visto tutte le condizioni del campo, non erano delle più ottimali. La pioggia ci ha un po' infastidito, però come si è vista alla fine abbiamo dato tutto e siamo riusciti ad arrivare a questa importantissima vittoria che ci dà morale e ci dà questi tre punti che ci servivano in classifica. Quindi una squadra che è raggita al meglio dopo la sconfitta domenica scorsa contro il Luca. Sì, assolutamente, anche domenica scorsa, anche se siamo state sconfitte, avevamo giocato comunque un buon calcio e oggi l'abbiamo rimesso in mostra e siamo riusciti ad arrivare a questa vittoria. Una vittoria che dà morale alla squadra dopo domenica scorsa? Sì, diciamo, le vittorie aiutano sempre, poi era la nostra rivale per quinto posto, ci stava dietro da un bel po', insomma, sempre alla breve distanza, avevano tre punti, ora sono diventati sei, insomma, a cinque partite dalla fine diciamo che abbiamo quasi messo al sicuro il quinto posto. Una vittoria che è arrivata con grande grinta e carattere in un campo difficile, come ha visto lei oggi la partita? Ho visto un buon primo tempo, non ci riusciamo forse a togliere di dosso qualche piccolo difettuccio che ci portiamo dietro, però ci stiamo lavorando e probabilmente col tempo ce la faremo, non è facile, ci sono vari problemi e noi non ci stiamo riuscendo. Un buon primo tempo, mi ripeto, nel secondo tempo la squadra avversaria ha messo in campo la propria esperienza, l'ha messa un po', diciamo, tra virgolette, nella rissa, ma sono cose che succedono, il calcio è pieno di queste, specialmente quello dilettantistico, di questi episodi qua e lì sono venuti fuori i nostri limiti nella gestione di varie situazioni, cose che, cose in cui dobbiamo lavorare, analizzare bene, capire e affrontare sicuramente, comunque noi abbiamo sempre dalla parte nostra la giovane età, però tutte queste cose dobbiamo assimilarle nel più breve tempo possibile se vogliamo veramente ambire altri qualcoscenici. Tant'altro che anche domenica prossima sarà il derby contro il Casentino? Sì, è sicuramente una partita, anche da quel punto di vista lì, emotivo e non solo il Casentino è una squadra che dal punto di vista di età anagrafica sono più grandi di noi, sicché noi dobbiamo anche giocare su quel campo lì, migliorare velocemente, come detto, perché è ancora il terzo posto che alla fine sembra di essere Zare A, no? E che il nostro obiettivo ancora è alla portata.